Si lavora a Castelvolturno in vista della trasferta di Empoli con fischio d'inizio fissato domenica alle ore 12.30. Al centro sportivo non è ancora rientrato Mattia Solivera, unico calciatore ancora assente per via degli impegni con le nazionali. Assieme alla formazione azzurra ci saranno oltre 4.000 tifosi al seguito che hanno occupato il settore ospite e parte della tribuna per questo match con la volontà di riscattare il K.O. del 20 aprile scorso. Un seguito che spazza via il malcontento della passata stagione, segno evidente di come Conte e ovviamente le prestazioni della squadra convincano e compattino l'ambiente. Conte al momento vuol continuare il momento positivo della sua squadra con un dato passato un po' inosservato, un solo gol subito negli ultimi 30 giorni. E sì, la difesa azzurra ha mostrato enormi qualità crescendo gara dopo gara. Nell'ultimo mese si annovera solo un gol subito appunto contro il Parma, poi di Lorenzo, Rachmani, buongiorno, hanno mostrato tutta la propria efficienza e solidità. Insomma, Conte sta trovando nel reparto difensivo quella certezza che trovò nella Juve di dieci anni fa con la famosa BBC e a dettare legge in Serie A. In questo momento tutto sembra dare ragione a Conte, con l'allenatore capace di trasmettere la propria filosofia e la squadra che lo ha compreso e lo segue. Quella sconfitta di Verona è stato un incidente, una scossa, che è servita alla squadra per tornare con i piedi per terra, per comprendere a meglio tutto quello che è stato il lavoro estivo, maniacale del tecnico. Adesso domenica ad Empoli per sfatare un tabù e continuare a volare. Grazie. Grazie.